La luce illuminerà le tue tenebre, la notte se ne andrà. Tu luce della gloria mia, devi risplendere, parola mia sarai. Cristo risorto, buongiorno cari fratelli e sorelle. Oggi è la terza domenica di Pasqua, oggi è un giorno davvero speciale, oggi è un giorno in cui ci accompagnano i discepoli di Emmaus, in questa domenica, dal Vangelo secondo Luca al capitolo 24. A me sempre entusiasma molto questo brano, questo episodio, realmente accaduto, perché accade proprio in quel giorno in cui Gesù è risorto, il primo giorno della settimana, al mattino presto, quando era stata trovata la pietra ribaltata, e avevano visto che non c'era più Gesù, è stato annunciato che Cristo era risorto, in quello stesso giorno, dice l'Evangelista Luca, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Ecco, questo già dice tutto. Cristo risorge a Gerusalemme e due dei discepoli sono partiti. Probabilmente anche prima della notizia, di sapere che Gesù era risorto, ma in ogni caso due discepoli che lo avevano seguito fino sulla croce, sono partiti, se ne sono andati, hanno detto perché ancora rimanere qui, perché ancora stare qui, se il nostro Maestro non c'è più, è morto, la nostra speranza è svanita, è perduta. Erano scoraggiati. Poco dopo dice che il loro volto era triste. Come noi cristiani, non solo in questo tempo di Pasqua, ma nella nostra vita, qual è il nostro aspetto? Com'è il nostro volto? Come noi ci presentiamo di fronte agli altri? Nel lavoro, nella vita, nella famiglia? Com'è il tuo volto? Io parlando ai miei parrucchiani scherzo sempre dicendo che quando siamo gioiosi, con la gioia del Cristo risorto, si dovrebbero vedere sempre i nostri denti. Perché? Perché significa che stai sorridendo, che hai gioia dentro di te, anche se le cose vanno male. E questi discepoli erano tristi, con un volto proprio rammaricato. Camminano e in questo cammino Gesù appare, loro non lo riconoscono, e dice di cosa state discutendo. E parlavano di lui morto e quindi tutto finito. E loro gli dicono Ma solo tu sei così forestiero, che non sai cos'è accaduto, che Gesù, Nazareno, fu profeta in opere e parole. Noi credevamo che fosse lui a salvarci, e invece è morto, come tanti altri. Allora, come ci immedesimiamo in questi due discepoli? Quando ci annunciano Cristo risorto, quando leggiamo queste parole, noi diciamo sì, sarà risorto, ma io vivo male, ma la mia vita non va bene, ma io sono scoraggiato, ma io sono triste, ma io sono vuoto, ma io non riesco ad andare avanti, ma io non ho perseveranza, io non ho costanza nella preghiera, eccetera, eccetera, eccetera. come questi due. Accade che Gesù in quel momento inizia a parlare loro e gli dice stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti e inizia a parlare da Mosè a tutti i profeti spiegando la scrittura. ancora non sanno che è Gesù, però poco dopo, lo diranno, non ci ardeva forse in noi il cuore, non ardeva in un modo davvero forte, sentivamo la sua presenza finché parlava con noi, questo è Gesù. fratelli e sorelle, lasciamo che Gesù parli a noi, lasciamo che Gesù parli attraverso la sua parola, lasciamo che Gesù parli a noi, oggi, domenica, in questo tempo di Pasqua, lasciamo che Lui parli attraverso il Vangelo, attraverso la Bibbia, anche attraverso questo video, lasciamo che parli perché il nostro cuore arda, il nostro cuore si scaldi, venga illuminato dalla sua parola, non impediamolo, non raffreddiamoci, perché quando Gesù viene e ci parla, la vita diventa più bella e a un certo punto poi Gesù si ferma e loro gli dicono ma no, dove stai andando, resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. Questa famosissima frase resta con noi Signore. Quanti canti sono stati fatti nella chiesa, liturgici, io ricordo quando ero bambino che andavo in collegio dai Salesiani in vacanza, in campeggi ed era appena uscito quel canto del Gian Rosso. resta qui con noi il sole scende già e ci piaceva, e lo cantavamo, lo cantavamo e si canta ancora adesso, sono passati 20-30 anni. Ma questo canto, questo brano, perché? Perché i due discepoli che ancora non si erano accorti che Gesù era con loro gli hanno detto che è bello che tu ci parli, che è bello che tu ci apri la mente alla parola di Dio. Continua, resta con noi. Non sapevano che era Gesù, ma lo hanno riconosciuto immediatamente dopo. Dice, quando spezzò il pane, recitò la benedizione e lo diede loro. Si aprirono gli occhi e lo riconobbero. Amen. Oggi è un tempo in cui dire al Signore vieni nelle nostre case, vieni nelle nostre famiglie, viene nella mia vita, resta con me, Signore. Ho bisogno di Te, di un nuovo zelo, di una nuova gioia, di un nuovo ardore. Ho bisogno di Te. Te lo chiedo con tutto il cuore, Te lo chiediamo, Signore. Resta con noi perché i nostri cuori ardano, perché il nostro cuore esploda di gioia, esploda di serenità della Tua risurrezione, Signore. E questo è l'annuncio dei discepoli di Emmaus. basta il volto triste, basta il volto scoraggiato, mostriamo i nastri denti, mostriamo il sorriso che non è di ipocresia, ma è di fede. Cristo è risorto, io ho i problemi, mi immetto nella Sua risurrezione e Cristo mi dà la forza, mi dà una nuova vigore, una nuova gioia. Amen. Buona domenica a tutti voi, cari fratelli e sorelle. Cristo è risorto, che il Signore resti in mezzo a noi, perché si fa sera, perché se Lui non è con noi, ci raffreddiamo. Buona giornata. Ciao. Sarai casa di preghiera, non temeri perché parla attraverso il cuore, sarai segno di unità e vittoria, Sarai casa di preghiera, non temeri perché parla attraverso il cuore.